Bene, iniziamo il ciclo di video tutorial dedicati alla installazione, configurazione e gestione del sito scolastico attraverso il nuovo tema PAS 2013 attualmente rilasciato in versione beta. Siamo nella prima delle situazioni che noi abbiamo indicato nei nostri spazi che è quello dell'installazione di Wordpress, attivazione del tema e realizzazione graduale passo a passo del nostro sito scolastico. Quindi siamo nella situazione, se vogliamo, più lunga, quella in cui noi non andiamo a riversare direttamente un tema già fatto ma lo costruiamo pezzo per pezzo per capirne bene il funzionamento. Ammettiamo di aver installato Wordpress nella sua ultima versione in italiano nel nostro spazio o su remoto o su locale e ci troviamo di fronte a un tema, quello messo in automatico da Wordpress attivato nella sua classica formazione del blog. Bene, adesso noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare per prima cosa a mettere i plugin che ci servono per il nostro sito scolastico o perlomeno quelli iniziali e a inserire il tema PASV 2013. Per fare questo io uso un programma che si chiama FileZilla e che mi consente di trasferire i file da locale a remoto. Ecco qua, noi siamo sulla parte destra nel nostro spazio remoto, in questo caso il mio spazio è l'ardizzone.info Nella sinistra invece noi ci troviamo, vedete, no? CI Users Alberto Desktop ci troviamo nel mio computer. Bene, vado a cercare la cartella dove ho installato Wordpress che è 20 agosto meno 1, cioè trattino alto 1. Cosa vedo? Vedo tutti i file tipici di Wordpress. In particolare vado nella cartella WP trattino alto content vedo che c'è la nuova cartella del linguaggio proprio perché ho la versione in italiano e poi le cartelle sui plugins e sui temi. Clicco due volte sulla cartella plugins in modo da poter trasferire i plugin che avete decompresso dal file che è stato dato nello spazio di porta aperte. Bene, andiamo a trasferire uno per uno. Trasferiamo il plugin che ci consente di generare gli archivi automatici per categoria. WPDP Manager lo lasciamo perdere. È un plugin che ci può servire per amministrare il database da utilizzare però con un po' di cautela proprio per evitare qualsiasi rischio di sicurezza. Poi andiamo a installare, a trasferire la cartella con il plugin Widget Logic successivamente il plugin TinyMC Advanced che ci consente di arricchire l'editor dei nostri contenuti è un plugin piuttosto ricco che tra l'altro ci consente di gestire bene contenuti accessibili arricchendo e personalizzando la barra degli strumenti e dell'editor con degli strumenti importanti anche a garantire l'accessibilità tra tutti quello che ci consente ad esempio di gestire le tabelle tabelle dati che richiedono alcuni elementi che facilitano alle persone con disabilità la comprensione delle tabelle stesse. Vedremo anche questo successivamente poi andiamo a metterci il plugin per la gestione delle sottopagine questo Jetpack che è presente nella configurazione poi lo possiamo anche eliminare peraltro non serve a niente poi il plugin che gestisce il calendario eventi nella sua versione per i PHP 5.3 qui dipende un po' dalle caratteristiche della vostra installazione adesso quasi tutti i servizi di hosting vi forniscono perlomeno PHP in versione 5 quindi questo è quello che a voi serve poi IG Attachment che è un bel plugin che ci consente di utilizzare in modo più accattivante e più semplice gli allegati e ci dà anche delle funzioni aggiuntive lo sviluppatore tratta una persona estremamente disponibile attento anche egli all'accessibilità ecco che si sta per completare se poi qualcuno di questi plugin non funzionasse perché magari va in conflitto con qualche vostra configurazione non c'è problema quelli assolutamente necessari sono pochissimi sono quello per gli archivi e gli altri e direi quello il TANIMC Advanced e anche il widget Logica e qui nella versione visuale che è più semplice rispetto al widget trattino alto Logica che si usava una volta poi c'è anche il plugin per gestire le briciole di pane che sono un po' quella segnalitica interna che vi consente di dire in quale pagina voi vi trovate e quella pagina a quale ramo di un ipotetico albero dei contenuti appartiene a chi smette c'è già e l'abbiamo fatto adesso ultimo passaggio ci andiamo a inserire il tema anche qui voi avete immaginiamo scaricato il tema del sito che vi abbiamo indicato e adesso andiamo a trasferire tutti i file del tema che decompressi compaiono all'interno della cartella quindi dovete semplicemente trasferire la cartella PASO 2013 che contiene tutte le personalizzazioni che noi abbiamo fatto per poter ci auguriamo in modo sufficientemente agevole realizzare un sito scolastico ecco abbiamo fatto tutto come trasferimento FTP e adesso entriamo in amministrazione clicchiamo su login collegati scriviamo il nome utente la password che noi abbiamo indicato nel momento in cui abbiamo installato wordpress qui anche un consiglio che spesso si dà è di non utilizzare come un nome utente admin e poi una password che non sia troppo semplice sperando di ricordarmela infatti non me la ricordo un attimo che forse l'ho scritta da qualche parte forse questa ok nel caso uno si fosse dimenticato la password la recupera attraverso il suo indirizzo di posta benissimo ecco che noi siamo adesso nel primo passaggio andiamo in aspetto temi e diciamo il sistema che noi vogliamo utilizzare non il tema corrente dato da wordpress ma il nostro tema e poi cambieremo anche lo screenshot che è quello della versione precedente lo attiviamo benissimo andiamo a vedere e non spaventiamo vediamo pasticcio vedete caspita errore non funziona dove è finito il tema che noi volevamo realizzare niente paura vediamo i passaggi che dobbiamo realizzare uno a uno andiamo innanzitutto sui nostri plug-in andiamo su plug-in installati e andiamo ad attivare quale? quale che abbiamo messo attiviamo quello che gestisce gli archivi e già che ci siamo ci attiviamo anche le briciole di pane ci attiviamo quello per gli allegati ci attiviamo quello per gli eventi direi quello qua sopra questo jetpack lo disattiviamo che non ci serve a nulla tra l'altro non è neanche aggiornato attiviamo attiviamo subpages widget ci attiviamo il tiny mc2 advanced ci saranno utili poi un secondo tempo anche per migliorare alcuni aspetti di gestione insomma abbiamo attivati tutti poi come primo passaggio configurare calendario eventi per fare questo creiamo la categoria eventi perché questo calendario sarà fatto in modo di gestire solo eventi cioè articoli che saranno poi abbinati alla categoria eventi per abbinare gli articoli alla categoria eventi dobbiamo creare la categoria eventi categorie nuova categoria eventi perfetto aggiungi nuova categoria vedete che il sistema in automatico me la crea poi andiamo a fare un'altra cosa che è la creazione della prima pagina all'inizio completamente vuoto non ci interessa creiamo nuovo nuova pagina e gli scriviamo qua home e diciamo che questa pagina home è una pagina particolare non è una pagina come quelle di raccolta dei vari blog che noi magari abbiamo imparato anche a navigare nel tempo ma è una pagina che è associata a un template particolare l'home page è sempre diversa rispetto alle pagine interne e quindi è associata a un modello che gestisce solo l'home page come facciamo a individuare il modello andiamo in attributi di pagina peccato questo punto che non c'entra nulla vedete che non c'è in pubblica approfitto per dire quello è un titolo di un box i manuali di buona scrittura ci dicono i titoli non terminano col punto pensate un po' agli titoli di giornale template home page e la pubblichiamo quindi abbiamo fatto ben poche cose finora cosa facciamo adesso andiamo a sistemare due cosette una sul plugin che gestisce gli eventi impostazioni event calendar ok e gli diciamo che deve filtrare gli articoli che sono associate alla categoria quale un attimo trodico eventi questi devono essere mostrati come articoli eventi separati e basta e salviamo la modifica e poi dobbiamo dire che la prima pagina da visualizzare quando uno digita il sito della nostra scuola è l'home page allora andiamo in impostazioni lettura pagina statica visualizzazione pagina iniziale una pagina statica quale home poi già che ci siamo diciamo che i feed che sono un po' una sorta di modalità di diffusione dell'informazione molto utile che può essere poi essere aggregata e distribuita in altri siti ebbene che insieme ai titoli mostri semplicemente il riassunto e che vedrete è uno degli elementi che sono caratterizzanti il nostro sito il nostro modello di sito salva le modifiche bene andiamo a vedere se è cambiato qualcosa visualizza il sito e insomma c'è già qualcosa di diverso tutto bianco comincia ad esserci scritto già qualcosa quello che è il nostro il nostro pd pagina e adesso vediamo un po' però di sistemare qualcosa in più bene continuiamo andiamo in bacheca avete visto lì sulla destra il calendario perfettamente funzionante e adesso andiamo a gestire alcuni automatismi che ha creato Ignazio Scimone e ci consentono di fare le prime operazioni di configurazione del nostro sito in modo automatico aspetto tema pass benissimo impostazioni logo possiamo cominciare a metterci un logo naturalmente non c'è nulla clicchiamo su sfoglia andiamo a cercarci un logo da qualche parte magari c'è il logo della nostra scuola io vado a prendere uno dei porti aperte che so grosso modo essere qui dentro ok apri voi naturalmente prendete state lavorando sul vostro computer il logo che vi pare clicchiamo su apri ecco qua che c'è sfoglia gli diamo magari quindi tutto anzi clicchiamo su memorizza modifiche così lo vediamo eccolo qua e gli diamo anche un testo descrittivo che è in questo caso non so questo si chiama porta aperte su web la vostra scuola sarà istituto il vostro istituto tal dei quali logo link all'home page ok memorizza modifiche logo fatto andiamo avanti scegliamo uno stile diciamo utilizziamo lo stile lo sfumato memorizza modifica stile poi andiamo alla testata testata attualmente qua non gli mancano dei pulsantini per gli acronimi e qua mettiamo un pro memoria su cui poi torneremo indirizzo telefono telefono poi dovremo mettere i codici meccanografico la pack insomma le informazioni da far vedere all'inizio e lasciamo soltanto scritte così per il momento e poi le sistemiamo poi andiamo sul piedi pagina e mettiamo qua in fondo soltanto il nome del nostro autore come lo chiamiamo l'autore mettiamo non so Nicoletta Bianchi ok memorizza modifica piedi andiamo adesso per il momento ci fermiamo a questo punto vediamo se è successo qualcosa visualizziamo il nostro sito ecco comincia ad avere già le parvenze nel nostro sito bene per oggi può bastare poi la prossima video tutorial sarà dedicato invece alla strutturazione dei menu orizzontali 1 la parte in alto 2 la parte che invece si riferisce alla navigazione principale presso oggetti vedete Nicoletta Bianchi che è comparsa e sotto il footer poi andremo anche a definire il menu verticale ma questo sarà l'argomento della prossima volta giusto a l'argomento Grazie.